meno. Ecco, io credo che poi molto giochi e poi il discorso inevitabilmente andrà anche sull'impatto emotivo che certe notizie hanno, anche sulla questione della sicurezza di questi impianti. Allora, nelle scorse settimane su alcuni organi di stampa io avevo letto una dichiarazione dell'ingegner Chester, ecco perché questa sera l'ho invitata, in cui lei diceva su quello che è successo in Giappone si sta facendo, uso la sintesi giornalistica, ma più o meno lei diceva del terrorismo psicologico, qualcosa del genere diceva. Sono parole forti perché comunque andiamo ad affrontare un tema sul quale c'è effettivamente molta preoccupazione, molta pressione diffusa, o no? Beh, diciamo che ha reso quello che ho detto. L'altra cosa che ho detto è che secondo me a livello attuale la tecnologia solare è appena un gradino sopra l'astrologia. E questa è l'altra affermazione forte. La tecnologia solare, mi perdoni, cioè la possibilità di ricamare energia. Dal solare, secondo me, è appena un gradino sopra all'astrologia, scientificamente parlando. Agli oroscopi per intenderci. Esatto, agli oroscopi. Detto questo vorrei tranquillizzare i telespettatori dicendo che nucleare in Italia non se ne farà per diversi anni. E questo, nonostante io sia un nuclearista convinto e non pentito. Vuoi perché è stato male affrontato, e in questo sono d'accordo col professore. Vuoi perché si voleva comprare una tecnologia tutto sommato o troppo vecchia o troppo nuova. E vuoi per l'incidente ultimo in Giappone che comunque spaventa l'opinione pubblica. Io posso dire però, per esperienza diretta, che sono un lavoratore esposto a radiazioni nucleari tutti i giorni. Perché io per mestiere controllo le persone che lavorano, ad esempio, nei depositi di scorie radioattive. E mi occupo del ricondizionamento di queste scorie. Se poi abbassate la luce vedrete che sono leggermente fosforescente. Ma detto questo, la dose... Sì, certo. No, perché magari a casa non capiscono. A casa ci credo. La dose... D'accordo che è il primo d'aprile, però, insomma. Erano i quaderni di Maria Curie che erano fosforescenti. Maria Curie, infatti... Quelli sì, infatti sono chiusi... L'ingegner Cestia non dà luogo a fenomeni sovranaturali. No, io controllo anno per anno, giorno per giorno, le radiazioni a cui siamo esposti, io e i lavoratori che lavoriamo sulle scorie nucleari, e devo dire che pur essendo i limiti molto più elevati, perché un lavoratore esposto può essere esposto a una radiazione di 20 millisievert all'anno, noi non superiamo mai 1-2 millisievert, che è più o meno la dose del fondo naturale. Quindi mi sento di dire, da un punto di vista diretto, che è una tecnologia tutto sommato sicura. Dopodiché ogni tanto c'è un incidente catastrofico e che spaventa fortemente l'opinione pubblica, perché l'energia nucleare non si vede, perché cominci a sentire parlare di iodio e di pillole di iodio e potassio da prendere per salvaguardare la tiroide, e di cesio, di stronzio, di quant'altro. E questo purtroppo sull'opinione pubblica ha un effetto devastante e non permette di approfondire il problema. Io vorrei questa sera cercare di staccarmi un attimo dal contingente e fare la storia dell'energia nucleare, che è la storia del XX secolo. La storia dell'energia nucleare parte dalle equazioni di Einstein, dalla famosa equazione energia uguale massa per velocità della luce al quadrato, a quella un po' meno famosa, ma che comunque gli è vaso al premio Nobel, che l'energia è uguale alla costante di Planck per la frequenza della radiazione, e poi passa attraverso Enrico Fermi, che come giustamente ha detto il professor Borio, è stato l'inventore dell'energia nucleare per uso industriale, l'inventore della pila atomica. All'inizio non aveva capito quello che aveva scoperto, erano i ragazzi di Via Panisperna nel 1934, in pieno regime fascista e con la nascita del nazismo alle porte. C'era Enrico Fermi, c'era Ettore Majorana, c'erano tutti gli ingredienti di una spy story. Enrico Fermi bombarda questo atomo di uranio 235 con un cannoncino a neutroni e cerca degli elementi transuranici. Non si accorge di aver invece provocato la fissione dell'atomo con la creazione di questa energia che mette a disposizione dell'uomo poi nel 1942. Qualcuno dice che Ettore Majorana invece, che era il suo fiero avversario, l'avesse capito. Tant'è vero che i due hanno uno scontro molto violento e Ettore Majorana poi nel 1938 sparisce misteriosamente e misteriosamente è riapparso nei giorni scorsi in una foto d'epoca insieme a un gerarca fascista. Fermi se ne va, è un gerarca nazista scusate, Fermi se ne va in America perché intervengono le leggi razziali e sviluppa questa tecnologia anche a scopo bellico, fa parte del progetto Manhattan. Di Majorana si perdono le tracce, c'è un bellissimo libro di Sciascia che lo vede in convento, qualcun altro pensa che sia stato rapito dai tedeschi, qualcun altro semplicemente pensa che abbia messo la sua intuizione al servizio del Terzo Reich per la creazione della bomba atomica. Tant'è che nel dicembre 1938 sono due tedeschi che per primi illustrano quello che è stato il fenomeno di fissione nucleare sulla quale poi si basano i reattori odierni, cioè bombardando un atomo di uranio 235 con dei neutroni, quest'atomo rigonfia e si spezza, si spezza dando luogo a questi prodotti di fissione che tanto spaventano la gente, cioè lo iodio, il cesio, lo stronzio 90, più altri che hanno una vita brevissima perché non dimentichiamo che tanti dei prodotti di fissione non durano milioni di anni, durano qualche nanosecondo, quelli a vita più lunga sono appunto il cesio forse lo stronzio e il plutonio di cui parleremo più avanti se avrete voglia di starmi a sentire. Lo iodio ha una vita, quello che contamina adesso il mare di fronte a Fukushima, ha una vita di 8 giorni, un'emivita di 8 giorni, che vuol dire che in 80 giorni io di iodio radioattivo 131 non ce l'ho più, correggimi se sbaglio. Quindi è vero, l'incidente rilevanti, l'uscita di radioattività è significativa, lo iodio 131 dopo 3 mesi non ce l'ho proprio più. Quello che invece ho è il cesio e lo stronzio, ma che comunque sono elementi più pesanti, che si fissano, è vero, nella catena alimentare, lo stronzio per affinità nelle ossa al posto del calcio e il cesio nei muscoli per la sua affinità col potassio e quindi va nella catena alimentare e la risale tutta la catena alimentare. Hanno una vita però che non è di milioni di anni, uno ha una vita di 28 anni, l'altro ha una vita di 30 anni e questa è la realtà del nucleare che è bene tenere presente. Poi per ritornare alla storia, abbiamo la storia dell'energia nucleare in Italia, l'Italia è stato uno dei primi paesi che ha sfruttato a scopo pacifico l'energia nucleare e nel 1963 era uno dei maggiori produttori mondiali. Poi c'è stato lo scandalo Ippoliti che forse quasi nessuno ricorda, fu arrestato, fu tolto dal suo incarico di presidente di quello che era l'ente nucleare italiano allora, ci fu la morte di Mattei, Mattei era stato uno di quelli che più fortemente aveva voluto l'energia nucleare in Italia, tant'è che aveva realizzato la centrale di Latina, così come aveva voluto fortemente il gas perché Mattei vedeva molto in là le cose e l'Italia, tolte queste due persone, tutto sommato rallentò di molto il suo programma nucleare fino ad arrivare a Caorso che fu il canto del Cigno. Dopo Caorso ci fu Cernobil e lì fu il nucleare italiano, ma quello per finire il secolo XX che noi tanti non ricordano o comunque al di là di Cernobil non viene citato abbastanza è che il Giappone non è nuovo a incidenti nucleari. 1999, Toccamura, impianto di ricondizionamento del combustibile, tre operai completamente sprovvisti delle adeguate conoscenze, riprocessavano combustibile arricchito al 20% ed ettero luogo a un fenomeno di criticità che è uno degli incidenti nucleari che si ricordano e che si studiano proprio perché ha dato delle problematiche. Sono morti tre operai ovviamente, ma comunque è stato circoscritto. Nella scala Ines che tutti quanti sentiamo in questi giorni parlare, ma che nessuno poi si dà cura di spiegare alla gente, era un incidente di scala 4 o 5 mi sembra. La scala Ines... Qual è il massimo? Il massimo è 7, però... È una scala convenzionale, no? È una scala logaritmica la scala Ines, quindi... Allora, vi chiedo un attimo se potete aspettare un attimo perché abbiamo, mi dicono, un po' di telefonate in linea, allora anche perché pagano loro, credo, quindi almeno risparmiano, se no li ho sulla coscienza anche sul portafoglio dei signori. Sentiamo chi ci ha collegato con noi questa sera. Buonasera. Sì, buonasera. Da dove ci chiama? Da Vigevano. Da Vigevano, buonasera. Lei cosa ne pensa? Ma io sto seguendo con molto interesse, sono una mamma di due bambini, quindi sono sinceramente molto preoccupata per il loro futuro. È sicuramente fondamentale investire su fonti alternative, sul rinnovabile e quant'altro, però se è possibile vorrei che si approfondisse il discorso della sicurezza per ovvie preoccupazioni materne, perché è vero che siamo l'Italia dei grandi cervelli che sono appena stati citati, però siamo anche l'Italia che non sa come smaltire rifiuti, che specula, che intasca i soldi a disposizione per le opere pubbliche. Quindi vorrei avere magari qualche informazione in più su, ok, si può fare il nucleare sicuro, ma ce la possiamo fare anche in Italia. Grazie, è stata chiarissima, cioè d'accordo tutto, però non dimentichiamo che in fondo siamo italiani. Grazie a questa signora che ovviamente cala poi nella realtà del nostro paese, effettivamente magari qualche dubbio può venire. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Francesco Davochiera. Prego Francesco, ci dica. Sì, le mie perplessità sul nucleare non riguardano tanto la sicurezza, ma come ha detto il professore prima, motivi economici, soprattutto per quello che riguarda l'acquisto dell'uranio. E in secondo modo, un motivo più che altro politico, tra lentezza e la litigiosità dei varienti presenti in Italia, abbiamo visto già con casi precedenti come con la TAV o come con le discariche a Napoli, non so quanto tempo ci metteremo per mettere d'accordo un po' tutti. Grazie a lei. Anche questo è un tema sul quale volendo si potrebbe discutere a lungo, anche perché poi naturalmente queste sono scelte che vanno gestite sul fronte della comunicazione, ma anche forse un po' della condivisione, perché poi anche tutto, anche come magari certi progetti vengono presentati e affrontati. Sentiamo se abbiamo qualcun altro in linea, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Da dove ci chiama? Sono Andrea Damortà. Buonasera Andrea, prego. Io volevo chiedere. Io sono un convinto nuclearista. Prego. E credo che l'energia nucleare ci farebbe risparmiare diversi soldi che spendiamo invece per comprare l'energia dall'est. E poi credo che l'energia nucleare sia molto più pulita, per esempio, dell'energia che deriva dal petrolio. Noi ci lamentiamo, abbiamo timore di avere una centrale nucleare vicino a casa, ma siamo pieni di raffinerie che inquinano, inceneritori, quindi credo che sia un no quello legato al nucleare più ideologico, che è basato su un effettivo stato di cose. La ringrazio. È stato chiarissimo. Grazie per aver chiamato. Abbiamo, credo, un'altra telefonata. Poi torniamo al dibattito in studio. Pronto? Pronto. Buonasera, direttore. a lei, tutti gli ospiti e gli spettatori. Mi chiamo Marini Anacleto, rappresento Identità Oltre Po. Buonasera, buonasera Marini. Buonasera. Ma io volevo dire semplicemente questo, visto che si era individuato il sito vicino Voghera, la zona di Cervegina, noi siamo assolutamente contrari a che sul nostro territorio venga realizzato un sito, ma comunque contrari in assoluto al nucleare. La nostra zona ha già pagato un costo pesante come cave, discariche e quant'altro. Qui è gente che ha investito le proprie risorse, le proprie vite per realizzare le aziende di qualità, ad esempio viti vinicole, che in un attimo sarebbero spazzate via se dovesse succedere quello che purtroppo abbiamo visto capitare già troppe volte. E la gente con le quali siamo in collegamento, in contatto, assolutamente contrarietà netta. La ringrazio molto per aver portato il suo contributo. Buonasera. Abbiamo avuto uno spaccato, diciamo, mi parli capire che c'è chi è fermamente contrario e chi dice, beh però se ci fossero determinate garanzie, poi facciamo la tara al fatto che siamo italiani. Luisa Alberto Orelliana, che rappresenta invece il comitato antinuclearista in provincia di Pavia. Voi su questo argomento siete convinti che le centrali non sanno da fare, perché? Per tanti motivi, ci sono motivi economici, ci sono motivi appunto di sicurezza, quelli economici perché sicuramente non tolgono per esempio la dipendenza dall'estero per l'Italia, perché comunque ha bisogno del combustibile che è l'uranio. L'uranio viene estratto in otto paesi al mondo, in venti paesi al mondo per esprecisi, però otto paesi concentrano il 90% dell'estrazione. Quindi l'uranio non l'abbiamo. Alcuni paesi, Niger, Kazakistan, l'Australia soprattutto, quindi dovremmo dipendere da questa azione. Dovremmo importarlo. Ma non solo, perché poi comunque l'uranio grezzo non basterebbe, non è che si prende l'uranio grezzo e si butta dentro un contenitore che è la centrale nucleare, ma bisogna poi fare un processo di... io non sono un tecnico come gli altri, però quel po' che ho letto sono un cittadino informato di questo... di arricchimento e quindi questo ci... e non abbiamo neanche questa tecnologia, quindi dovremmo essere dipendenti anche da altre nazioni tipo la Francia, che poi è il principale sponsor, abbiamo visto tutti gli accordi Berlusconi e Sarkozy per il nucleare in Italia, che poi questo nasce diciamo dal grosso debito pubblico che è l'Italia, per cui 511 miliardi di euro del debito italiano sono in mano alla Francia. Quindi quando uno ha perso il debito, dipende dagli altri, perde un po' la propria sovranità nazionale. Questo è un po' l'origine di questa ripresa del nucleare in Italia, la vera, non perché in effetti manchi energia in Italia. L'Italia ha tante possibilità, oltre a quelle dette del nucleare, del nucleare, del solare, dell'eolico, dell'eolico. Prima il dottor Moro diceva che l'Italia non è autosufficiente, questo è quello che si dice anche nei mezzi di comunicazione, voi invece dite che addirittura l'Italia ne avrebbe in eccesso? Io ho letto, no, no, non è questo. La potenza installata sono 102 mila megawatt, no? La potenza di picco consumata a un pomeriggio di grandi consumi è 58 mila. Qui noi abbiamo 50 mila megawatt di potenza installata che non ci servono, perché? Perché costa caro produrre l'energia elettrica. Secondo lei conviene consumare o comprare energia che costa caro? Se conviene di più comprarla dall'estero? No, no, certo, però discorso di... quindi in teoria... Ma poi sono da fonti fossili, eh. E certo. Poi è tutto carbone, gas... Per cui se noi siamo già fuori, con Chioto adesso, voglio dire, se dovessimo usare quelle saremmo stratosfericamente fuori. Per le emissioni negasserre avremmo problemi, oltre al fatto che comunque anche le fonti fossili rischiano prima o poi l'esaurimento, quindi comunque bisognerebbe anche da questo punto di vista... Sembrerebbe abbastanza rapidamente. Il picco del petrolio è stato già raggiunto, quindi bisogna cambiare un po' lo stile di vita, ma più che gli stili di vita bisogna andare verso un risparmio, cioè case a maggiore risparmio energetico, favorire il trasporto pubblico, cioè non stravolge, non torniamo a vivere nelle caverne con le candele accese. Però prima il Dottor Borio diceva, al di là dei rilevamenti più di natura economica, però con i pannelli fotovoltaici... Alla fine il nucleare in Italia, stiamo parlando di 4-5 centrali, questa è l'idea, raggiungerebbe una prestituzione minima, quando anche andranno in produzione fra 7-8-10 anni, 12 anni, perché poi abbiamo visto il caso della Reva che non riesce a chiudere, a far funzionare la centrale in Finlandia dal nome impronunciabile, che doveva essere aperta nel 2009 e adesso le ultime revisioni parlano del 2014, la Reva è proprio quella ditta francese che verrebbe a costruirla in Italia, quindi queste 4-5 centrali, poi soprattutto concentrate in zone non sismiche e con buona quantità d'acqua, come diceva il professore, non sufficiente la pianura padana, ma probabilmente quella messa meglio in tutta Italia, quindi andiamo a concentrarle anche un po' in zone ad alta antropizzazione, quindi con alta densità abitative, e tutto questo per avere qualche percentuale, quindi il problema è quello di prima della dipendenza, non lo risolviamo perché l'uranio certo lo fabbrichiamo noi, non ci risolve il problema generale di avere una dipendenza energetica dall'estero, quindi nasce tutto per queste tematiche qui, di accordita Italia-Francia, questa è la motivazione. Poi storicamente, adesso per fare un po' di discursus storico come è stata fatta anche precedentemente, il nucleare è una scelta sottoprodotto della guerra fredda, nasce tutto da lì, ancora girano per il mondo i sottomarini a propulsione nucleare, quindi nasce da una scelta nuclearista legata alla guerra fredda, le due superpotenze dovevano difendersi una dall'altra e si è dato un grosso impulso al nucleare che dava come prodotto il plutonio che serviva per le testate nucleari, adesso c'è stata una grossa dismissione di testate nucleari e si sta diffondendo la dismissione del plutonio da parte dei testati nucleari, sta portando ad avere tanto plutonio, ecco per cui nascono i MOX di cui abbiamo sentito parlare, mai sentita prima come sigla, ma che stava alimentando uno dei reattori giapponesi, quelli di Fukushima. Poi per andare in particolare a Fukushima, sulla sicurezza, una breve... Posso chiedere una cosa, sul tema sicurezza, il tema è importante, ci fermiamo qui, riprendiamo dopo la pubblicità, così il pubblico a casa sente la parola sicurezza e si guarda anche tutta la pubblicità, i nostri inserzionisti sono contenti, facciamo una breve pausa, ci sono le ultime notizie per chi ci sta seguendo in diretta questa sera, l'informazione delle 22 e poi di nuovo in diretta Tragato PV per andare avanti a sviscerare questo tema così complesso, lo avete capito, e che divide davvero l'opinione pubblica e il nucleare in Italia, sì o no? A tra poco! Riscopri l'emozione dello shopping nel tuo paese, negozi e botteghe artigiani di grande tradizione ed esperienza, personale accogliente e professionale, ristoranti e locali tipici per ritrovare i sapori di una volta, dall'unione di cinque comuni nasce il distretto diffuso del commercio, bassa l'omellina, per riscoprire il piacere dell'acquisto sotto casa e sostenere il territorio Sostieni il commercio locale, acquista nel tuo paese Distretto diffuso del commercio, bassa l'omellina, spazio urbano a misura d'uomo Perché c'è sempre più gente che per risolvere i problemi dell'acqua domestica si affida agli impianti Calligan? Guardate in casa del signor Monti, senza il calcare nell'acqua evita grossi danni agli impianti della casa e la signora ha il bucato morbido senza usare ammorbidenti e con l'acqua Calligan è un piacere fare la doccia e poi Calligan ti dà l'acqua di una sorgente montana Calligan, il numero uno nel mondo per il trattamento dell'acqua Calligan, acqua pura per la tua casa Iper, la grande I, premia la tua spesa Ritorna alla raccolta punti forte Con carta vantaggi, i punti diventano risparmio direttamente alla cassa E nelle domeniche 3, 10 e 17 aprile, un punto forte per ogni euro di spesa Solo domenica 3 aprile, TV 40 pollici LED, Full HD Samsung a 599 euro Da Iper, la grande I, a Montebello della battaglia Fondazione Levele pensa al futuro, il tuo Corsi di formazione per l'inserimento specialistico nel mondo del lavoro in un ambiente moderno e attrezzato Fondazione Levele opera in provincia di Pavia, in collaborazione con gli ente, le istituzioni e le aziende Uno staff di professionisti di esperienza ventennale e consulenze esterne consentono un costante interscambio di know-how Fondazione Levele è certificata Unianiso 9001 ed è accreditata come ente di riferimento della regione Lombardia Fondazione Levele, formati per essere competitivi A Zavattarello riapre il castello dal verme per la stagione 2011 Da sabato 2 aprile sarà di nuovo possibile visitare la Rocca con le scuderie, gli spalti, la cappella e le sue 40 stanze Un'occasione per rivivere una storia lunga mille anni e godere di un panorama mozzafiato dalla terrazza e dalla torre Zavattarello, storia, ambiente e tradizioni in uno dei borghi più belli d'Italia Mille Canali, la più prestigiosa rivista del settore radio tv, ha assegnato a Telepavia e il Tg d'Oro quale migliore emittente all news del digitale terrestre in Italia Telepavia, migliore emittente all news del digitale terrestre, secondo Mille Canali, la più autorevole rivista del settore radio televisivo Bentornati, bentornati in diretta a Targato PV Parliamo di questa ipotesi che anche l'Italia possa tornare dopo l'anno di sospensione deciso dal governo